Successo per l'open day al centro dell'AUGE a Portoferraio organizzato dall'associazione Danza Rima e dal centro toscano di arte e danza movimento terapia per illustrare il corso di formazione che partirà a novembre 2015 al centro giovani di Portoferraio. Si, c'è stata parecchia gente, si è proprio open day aperto a tutti, a tutte le ore della mattina, al pomeriggio, al pomeriggio sono state altre persone che non erano noti al mattino e si, c'è stato veramente un riscontro molto forte sulla parola tante persone sono interessate e tante speriamo ancora che riusciranno a cedere questo corso perché è veramente interessante. Dovrebbe partire in novembre in forma giovani e con le diverse materie per cui sulla formazione speriamo bene, insomma speriamo che questa è un'opportunità per l'erba molto importante. Dall'associazione Danza Rima che opera un po' in tutta Italia, oltre a Orietta Ravenna, fa parte anche il noto musicista Gianni Dall'Aglio che si occupa della parte ritmica e lavora con chi ha problemi di Alzheimer o handicap medio gravi attraverso il ritmo. Un corso di formazione per gli addetti ai lavori e non solo. È un lavoro proprio su se stessi, perché è un lavoro sul corpo ma un equilibrio corpo-mente che va bene per tutti, sulle emozioni, è un lavoro proprio anche sul personale, non solo gli addetti ai lavori ma veramente anche per tutti.